attento francesco che meraviglia di giornata vediamo 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 eroi eroi dell'alettico passano adesso cominciamo con i premi ok 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 primo premio a foto foto in treno foto in treno l'unica foto che c'è in treno è chi c'è chi c'è tre protagonisti e che saranno premiati perché foto ben quadrata con lo sfondo dietro lo sfumato mosino sorriso smagliante 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 di felicità ecco qua questa l'unica foto della stazione di arrivo a san cristoforo al lago stazione di san cristoforo al lago e adesso siamo al nastro di partenza i nostri eroi pronti un po' di confusione un attimino così un po' di eccitazione avanti indietro provate le bici come a terra sella giù sella giù qualcuno domanda istruzioni elementari arriva la maestra subito che spiega gli uomini guardano silenziosi qua fanno la foto ricordo facciamo una cosa finché a un certo punto scusa panico via di corsa tutti di corsa via sentenza malassicrabile pronti si è attraversa e qua già si vede un problema la persona arranca e si appoggia alla recensione manca qualcosa ancora trepatia ma si infretta qualcuno ha detto quando beviamo questo caffè cosa fai e il risultato bello il lago bello il lago qui siamo al lago di caldo nazo bellissimo la famora passarella la famora passarella attenzione 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 please please ferma tutto è successo qualcosa questo è il primo il primo della serie dopo qualche minuto osserva la valentina la valentina comincia a vacillare davanti davanti perché non ha buo il caffè all'inizio non ha fatto qualsiasi non lo so lei lo sa ma guarda vacilla attenzione please non lo so se guardare indietro qua avanti indietro però bella giornata bella 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 giornata bella il lago tranquillo qua meno insomma sia che l'operatore resta soccato ma continua ad avere dei cambi di direzione incredibile comunque si riparte attento alle scritte tanto per prendere in giro chi cade attenzione la bici è tutto la bici è salutare la bici è grintosa la bici è amica del clima ecco la bici è viva la bici è arte ecco arte andiamo avanti e tutti pensano a cosa al tuo caffè ci fermiamo diciamo vogliamo il caffè per piacere e sai bici 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 nel paradiso delle mela ah qua bello 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 qua qualche mela qualche pomo si ha fatto una giusta fine ecco osserva le riprese fatte con non si vedeva un pomo questo è il gruppo qualche trofeo anche in bocca si 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 di solito già adriano è bello è bello è un altro bici si si riprende non c'è pietà qua siamo in piena ciclabile si passaggi ecco qua saluto attento l'ultimo che è sempre siamo avanti chiudi praticamente come c'è l'italia c'è uno che chiude il giro in Italia eccolo eccolo Buonissimo contributo, buonissimo contributo, ecco questo è il gruppo, continuiamo a salutare, tutti allegri E qua di serio madonna, non finisci più, e sempre gli ultimi, senza mani addirittura, senza mani addirittura, senza mani addirittura, tutto tranquillo, bello, tutti allegri, tutti felici Che carovana, che carovana Qua si è venuto posteggiato il Brenta, che è praticamente appena nato dai laghi, appena appena, se si vede un piccolo rigagnolo ancora Passa all'ultimo, siamo ancora, ecco queste sono immagini proprio bellissime da vedere, c'è una bandina, il fiume, i fiori, e si pedala quasi di impressione Lei è acciclabile, fattibile, 50 km, però fattibile Sorge già un piccolo problema, vedi c'è un tavolo per mangiare qualcosa, vedi? No ma, cioè, si guarda il paesaggio, il bello, e a un certo punto si dice, ma si mangia, si, si, e via di cosa, ecco E qua finalmente Abbandono delle biciclette Finalmente qua ci siamo fermati Ecco Da notare, che durante il pranzo, non abbiamo visto una fotografia di un panino, di un bicchiere, niente, tutti a mangiare e una volta saci, una fotografia Tutti impegnati, e guarda qua, picnic, frigorifero, eccetera, sempre loro due Organizzai, organizzai, organizzai Dai qui qua, faccio il gruppetto Che dire? Eh, se vedi che devi riposare, hai bisogno di riposare Anche ma, ma felice Ma come? Io, ma felice Io, ma felice Largo ai selfie Hai selfie adesso Arrivano i selfie Allora, premio selfie obliquo Oh, qua siamo al trincerone di Grigno Ah, ok Che non l'abbiamo degnato di uno No, proprio Perchè? Neanche sapevo meglio Forse è il trincerone di Grigno, ti giuro Ma però, si osserva Il gruppo si ferma Sul ponte Eh, bello suo passaggio qua Bello, bello Per vedere, c'è una persona in mezzo Cosa fa in mezzo? La fa, la fa E tutti guardano Non so Ma non credo, non so Beh, saluta una persona forse Non so La persona Ma non si capisce proprio No, no, ok Ma sono tutti là che salutano Dietro c'è il trincerone Guarda, Claudia Guarda, vediamo, vediamo Tina Mara 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 Oh, cosa fa quella persona? La pesca Forse pesca No? Vediamo, vediamo Si alza E dice Si alza via No? Ecco quella Arriva l'ultimo Ecco perché Ecco perché Arriva l'ultimo E adesso Mancava l'ultimo per quello Pronti? Eccola qua 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 Adesso Qualche foto Qualcuno ha fatto anche delle foto Cartoline E allora Giusto Mostrarle Questo profondo significato Di chi è? Di De Gregorio Eh non so Uno Uno del posto Si Un writer Un writer Sì Qui siamo a Borgo Messugana Bellissimo Borgo del Trentino Borgo Messugana Dove chiediamo Bevo E caffè Qua si chiediamo Bevo e caffè Si Si Giro con caffè Qua Siamo lungo il percorso Si Su un ristoro Chiuso Chiuso Bene Ancora Borso Borgo Borgo Si Borgo 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 Fiori Qua va Al Brenta Ti vedi che è già più Più Brenta Più Brenta Più Brenta Qua stiamo arrivati Eh si Siamo Siamo al Bicicril Bicicril De Tezze Ah la Mara sorrida e contenta Si Si E qua Tutti si rilassano Discutono del giro Fatto Adesso Si Si Esatto Perplesso Sì Sì Si Mi faccio conti Sì Scrutta L'Infinito Qua domandano altre storie E A Laura Sì E Sì A Ilia Tutti Tutti Si mangia la banana Si 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 Caricano le nostre biciclette E quindi In 30 In 30 In 30 In 30 E quindi restiamo Appiedati Quindi E allora si comincia Il lungo esodo Eh si Il lungo esodo E l'ultimo Che è Sempre Io Con un sguardo Grintoso Vai a chi si perde Alla stazione Era tutto Tutto Abbiamo fatto Era il treno che è evitato Era anche il treno evitato Nessuno si è accorto Nessuno si è accorto Nell'e euforia Generale così Sì Abbiamo anche Obliterato Sì Tutte cose Si vedono immagini Di vario Genere Vario genere E dopo Alla fine Per Così Per non buttare via Proprio al vento Delle Le fotografie C'è un opzionale Chi vuole guardare E sono Che ne arriva Tutte Ah Tutte le foto Le altre foto Un po' ingrandite Giusto per dire No ecco L'avevo mandata E non l'hanno cestinata E quindi Belle 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 Giusto Giusto Con la musichetta Chi vuole le guarda Sì Sennò 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 Si chiude Ok Allora Molto bene Molto bene Prepariamoci Prepariamoci Per la prossima La prossima Prossimo giro Prossimo giro Sì Prossimo giro L'anno prossimo Si lo facciamo in salita Passiamo Passano Passano Levico Mi levo il casco Perché adesso Non mi faccio più male Ici belle belle Ciao tutti Ciao ciao Ici 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 Ici